secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie ma grazie per essere entrata anzi ma figurati ci mancherebbe ciao ragazzi siete i numeri 1, grandi ciao, 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 ciao ciao ragazzi ciao sono riprendendo per il culo me sono riprendendo per il culo me oh addio ma pensa a te, ma pensa a te 1 guarda giusto per rimanere in tema giusto per rimanere in tema ma guarda proprio non poteva cascare numero migliore non poteva cascare numero migliore non poteva cascare numero migliore porca vacca il mondo è veramente un posto incredibile ragazzi uscire da quel cesso forca vacca la caca incrozzata nel retto ha mangiato pesare ha mangiato pesare ma mi senti dici dici, ma sei vestito almeno? no, no, no io mi sentirei violata la mia intimità dopo una domanda no, sotto dico cioè sei nudo no, no, no freestyle ma scusami ma scusami il link eh però non so se prende bene la cioè da tra quanto andiamo a cina riesco a fare ora? no, allora non riesco a farle indare il cavolo di di chiamata ehm vabbè dai Berta sei sei sempre la number one quindi non vuoi entrare a salutare un attimo? Berta? perché non la sento? la fai? mi vedi così devo camminare qualcosa devo camminare pronto? ciao amore come stai? non ti sento cazzo cavacca aspetta aspetta i tecnici o cane o cane o cane ha un cane di chi è il cane? o cane? no di chi è il cane? cioè di chi è il cane? tu scusa o cane ha un cane o cane di chi è il cane? ha un cane di chi è il cane? di chi è il cane no? eh quindi o cane in teoria da come l'hai detta tu allora ci facciamo la diversa o porco ha un porco di chi è il porco? vabbè ci facciamo la diversa o porco ha un porco di chi è il porco? che cosa? o porco o porco ha un porco di chi è il porco? dio porco ci sta è effettivamente questo è corretto è corretto è molto corretto è corretto comunque torniamo a noi torniamo a noi non c'è cosa è hollywood? il filtro di pesa hollywood 1,2,3,4 no io volevo i brufoli con la ritocca dove non hai i brufoli? a volte capita che ho i brufoli magari con questa cicatrice allora sento però che ti cerchi l'etichetta di perfetto in questo modo se ti toglie i brufoli no però mi fa fastidio avere qua una cicatrice o un brufolino ma allora sento che cerchi comunque no la faccio per me stesso perché comunque mi impegno magari per fare quella foto e tutto vabbè non sa mica un brufolo rendere brutta la foto però per me dai quanti anni hai veramente? ma ho 22 anni niente pure elisa palumbo ma ho 22 anni no stai dicendo cavolate cercalo su internet cercami io so eh vediamo quanto mi date mentre te lo metto dentro capito del 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 divano che cosa? perché c'è il cuscino fuori c'è il divano quello di Bradzer c'è il cuscino fuori si no no ho sbagliato ok ho risolto meno male eccoci qua eccoci qua eccoci qua, eccoci qua ahhh Ho il volume giù Che ruolaccio Mi stai? Ciao, aspetta Inchia Eccoci Ok, eccoci qua Ciao Ho il volume al minimo Ho fatto un errore Ciao, hai visto che ho uno studio, eh? Ha clipato la voce Ragazzi Guardate cosa vediamo, guardate cosa vediamo Divertiti? E uno dice, che cazzo ha detto? Boh, però fai io, perché? L'hai ciccato in bocca David, vuoi entrare? Tanto la conosci benissimo lei Se vuoi entrare io ti mando il link Quando vuoi, se vuoi Come ti pare Te lo mando, eccoci qua Marfetto Non scrivete queste cose volgari, ragazzi Abbiate un po' di rispetto del prossimo, per favore Grazie davvero Grazie davvero Mi cerchete di avere rispetto perché è importante Il rispetto è la base di ogni rapporto umano e sociale Dov'è il... Niente, ho perso tutto Ecco, era sulle mie palle Era... Grazie Brune Grazie TRM Pazzo Vi ricordo che se volete sabbarvi Undertaker Andrea 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 c'era un po' la faccia d'Andrea L'ha bestemmiato Ok Ma... Ali Carlo l'ha bestemmiato E non so se vuoi essere associata a questa cosa Vuoi che staccola l'Ivery Povol Vod E... Chiedo scusa a tutti Ma sono storto Eh Ali Appena bestemmiato E non so se vuoi essere associata a questa cosa No io... Io vado in chiesa No 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 Carol Ti saluta il Simo Ciao Simo Allì Scusa Mi devi togliere Ciao Eh? Perché? Te ne devi andare? No Chi è che sta urlando lì in quella casaccia? Oddio che carina quando tossisci Sei cuttissima Rifai la tosse un attimo? No No è stato bellissimo E vorrei... Hai fatto tipo So pedali Che carina Brutto brutto come ragazzo Poi per niente è simpatico Ma sì te l'ho vista su TikTok Eh? Ciao Ciao Che simpatico Grae in faccista Alla iconia Smin Barbieri Alla telecamera appannata Non è lui eh Non sia mai No E quindi l'hai visto su TikTok Vezze Sono qua le altre ragazze No è per la gara di rimorchio Ah ma aspetta Qualcuno ti ha scritto in privato? Eh È certo Ok Scrivete a Don Maddie Se volete entrare a parlare con Ali e Lisa Palumbo Allora Voi due siete Visto che altre sono sparite Voi due sarete le ragazze immagine Va bene? Ok I ragazzi possono provarci con voi Avete capacità di Valutare un approccio Di un ragazzo con voi? Mi si è anche scaricata la pasta È partito In teoria In teoria Ok la roba si La roba funzionaria in teoria Si la roba Ma non ho anche un paio di idee di che cosa sia successo Assurdo Provocato Si si ma non dava nessun problema Non ho idea Ci siete ragazzi? Comunque vabbè Siamo ai saluti Quindi chi è rimasto per i saluti È il momento di fare i saluti Poi andiamo da Impact Che è quel ristorante vegano Che ti avevo detto Buonissimo E ti porto proprio a sto rifugio Michia Le vuoi proprio male Lo porti al ristorante vegano Una volta che viene Lo odi proprio Madonna mia Ma no guarda Andrea ti giuro È un po' di peli sulla finestra Per condire Don per cortesia Ascolti Ciao ho mangiato La prego Cortesemente Ma giuro è veramente buono Guarda Andrea Quando la carne è stampata in 3D Dai Vabbè Sono tanti I primi binari Parate di calcio Sopcchetta Sì esatto Ah pensa te Però questa è una cosa Beh ce lo facevano già ai tempi Sì Mia mamma mi raccontava Anche quando andava a ballare Le facevano queste cose Cioè le vedevi in giro Queste cose Ti faccio una domanda un po' Anche questa è un po' provocatoria Però nel senso Situazione tipo Stai passeggiando per il number Letteralmente ti giri E vedi uno su un tavolino Che sta pippando Ok E lui ti guarda E ti dice Scusami Ti prego E non solo È anche quello Pronto Come uccelli Ma ci sta Ma è romantico È vero Ma ci hai aperto Dai andiamo lì Andiamo lì Dai Ma non Ma non Non c'è Guarda c'è la torre di Babele Cavallo Bene bene